Voglio dire una cosa su Roma. Anche noi sosteniamo totocorde la candidatura di Carlo Calenda, che sarebbe uno straordinario e bravissimo sindaco di Roma. Io con Carlo ho lavorato per anni come suo fidato sottosegretario allo sviluppo economico, so come lavora e penso che i romani davvero recupererebbero l'orgoglio di appartenere a questa meravigliosa città che oggi, diciamoci la verità, un pochino hanno perso. Però anche questo deve essere uno di quegli esempi di lavoro preventivo comune che dobbiamo fare indipendentemente dai contenitori, dalle federazioni.